Maria De Filippi chiama al centro dello studio Ernesto Russo e Marianna. Quest'ultima è una nuova dama del parterre e racconta che, durante la prima puntata, si è sentita come il brutto anatroccolo non ricevendo alcun invito. Il giorno dopo si è avvicinato e mi ha chiesto se andasse tutto bene e il mio lavoro, e quando ha scoperto che lavoro in aeroporto mi ha chiesto se poteva perquisirmi. Ciao da Super Gossip!